questo è il paese cina caos scherno dei diritti dell'uomo saccheggi ricatti stupri un movente il denaro uno scopo l'oro un culto la ricchezza dal semplice bandito al più autentico tiranno un'unica idea dirigere verso la sua dimora carriole di soldi di bronzo o vagoni stracolmi d'oro il popolo è una cimice che gli uomini in armi schiacciano non appena osa uscire dal battiscopa se volete ringiovanire rallegratevi si torna indietro di sette secoli il territorio embalia delle grandi compagnie di ventura 21 province 21 tiranni l'uno vende la sua parte di cina al giappone l'altro gli americani tutto è messo all'incanto fiumi ferrovie miniere templi palazzi navi per chiunque il paese è un bottino non si tratta che di farne man bassa allora si dia inizio all'asta chi vuole delle locomotive chi offre tanti dollari lei tokyo bene aggiudicato a chi tesori degli imperatori ming con il mercato del petrolio in aggiunta all'america aggiudicato gabelle tasse imposte tutte le risorse vanno i generali prendetene uno di ritorno da una sua tournée quando le sue tasche traboccano e crematelo il forno non restituirà cenere pensi metallo fuso si potrebbe fondere una campana con i suoi resti non è la cronaca dei tempi di marco polo è la storia contemporanea la cina ha perso la testa in compenso a due cervelli pechino a nord canton a sud nel sud un uomo di nome sun gian sen un giorno si è seduto con decisione su una poltrona di legno nero sopra la quale c'era scritto presidenza della repubblica era presidente della repubblica del sud come io in questo momento sono proprietario del grand hotel di pechino perché lì occupo la camera 518 su cinque province tre non li obbediscono e a canton la sua capitale un terzo delle truppe sfuggono al suo controllo le tre province refrattarie hanno come re un certo chen yong ming che sputa delicatamente a terra in segno di smentita ogni volta che gli dicono che sun gian sen è stato il suo presidente il nord ha come capitale pechino dal punto di vista politico pechino è una città annullata proprio a pechino c'è un presidente della repubblica che abita un palazzo celeste imperiale sull'altra sponda dei laghi di ninfè nella città interdetta ma io credo sia lui a essere interdetto l'unico essere che gli obbedisce è tibetano e non è un uomo ma un cane due tiranni due super duyun zang zu lin e wu peifu regnano nella cina del nord sono i due budda della guerra zang zu lin è nel nord capitale mukden ha 300.000 uomini accanto a lui e dietro un paravento il giappone wu peifu è nel centro 300.000 uomini anche lui al suo fianco nascosta all'ombra del grande dollaro c'è l'america il lunedì zang zu lin ha polaiato sull'estrema punta della grande muraglia là dove essa affonda solennemente nel mare urla a pechino le mani al megafono cacciate via quel governo il presidente del consiglio mi disgusta disfatevene ho detto allora il presidente del consiglio balza improvvisamente in piedi prende un treno al volo e si rifugia a tiensin nella concessione francese della quale tre giorni prima nel corso di un magnifico slancio oratorio chiedeva la soppressione il martedì wu peifu accampato al centro del grande ponte del fiume giallo dice con voce tonante zang zu lin è solo un asino il presidente del consiglio resterà a pechino l'ordino e il brillante presidente del consiglio con passo felpato raggiunge nottetempo il suo ministero questo è il folle paese nel quale vi conduco compagni d'avventure